E' difficilissima da ricordare, proprio in generale, vediamo se qualcuno sa la ricorda. Sa, qualcuno la sa. Non io, ma qualcun altro la sa. Qualcuno? Sì! Non importa di lui, se non vorrà, mi morrerai. Se non viderai, tu mi dirai, vuoi morire a canto, se non lì qui, sognato di volare via. Meraviglioso! Bravissimi, vi siete ricordati una perla nascosta!